Io sono d'accordo, perché con questo sistema qui non si va più avanti. L'Umbria dice addio ai campanilismi e avvia un processo di fusione di cinque piccoli comuni, il primo a livello regionale. Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Parrano, Ficulle e Fabro, entro l'anno potrebbero diventare un unico comune di 8.000 abitanti. Prima però un referendum da votare a Primavera, dove la popolazione si esprimerà. Questa è Montegabbione alle 13 di un lunedì qualsiasi. Poca gente in giro e non tutti sono d'accordo. Per lei è favorevole al discorso della fusione dei comuni oppure no? Non così. Comuni che hanno 1.000 abitanti, 800 abitanti, che significato avere il comune? Con la fusione meno costi della politica, maggiore possibilità di attrarre finanziamenti e più qualità nei servizi di back office. Per un cittadino a livello pratico, cosa cambia con la fusione? Nei nostri obiettivi paradossalmente non dovrebbe accorgersi di nulla. perché noi pensiamo a una fusione, a un comune fuso che lavori con i municipi. Quindi avremo 5 municipalità che stanno esattamente nel luogo dove stiamo. Il cittadino, l'anziano o il cittadino indistinto potrà continuare a venire esattamente nello stesso luogo dove veniva prima della fusione. Qualche contrarietà di fronte a questa innovativa fusione c'è, anche nella politica. La fusione in se stessa potrebbe essere una cosa molto positiva per il nostro territorio, però avrebbe bisogno di uno studio di fattibilità e di qualcosa di concreto prima di innescare tutto il processo. Questa è Fabro, un altro dei comuni che andranno a fondersi. L'argomento tiene banco nelle discussioni di piazza, ma il paese si spacca. Benvenga il cambiamento. Ogni volta che abbiamo cambiato siamo andati sempre a peggio, dunque perciò fino a che non vedo non mi esprimo. E c'è anche chi ha le idee molto chiare. Io contrarie. Perché? Anche sono vecchia, perché il comune è stato sempre a Fabro e Fabro deve rimanere.